cosa abbiamo qui cosa vuole effetto non so vogliamo continuare con le prime ok allora iniziamo con le interviste prima intervista abbiamo la cura dell'auto Antonio Pizzi è pregato di presentarsi qui davanti la console Antonio Pizzi la cura dell'auto brocanelli carrozzeria allora brocanelli carrozzeria qui davanti la console per intervista vediamo chi c'è retec ce l'abbiamo retec aspetta che già sta cosa che gli controlli gli accessi qua non stavano Lo faccio perché non si vede l'accesso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.